Il collegio FIAIP-Como, FIAIP-Provincia di Como, ha organizzato proprio un momento formativo di particolare interesse alla presenza e ha portato il suo saluto il Presidente regionale FIAIP-Lombardia, Luca Simeoni, con il relatore della giornata particolarmente preziosa, la giornata di formazione, il Professor Roberto Tibi. Bene, Presidente, è stato un ulteriore momento per acculturarci nella cultura del lavoro, nella cultura della formazione a cui FIAIP-Lombardia dedica tanta attenzione. Assolutamente sì, questa mattina peraltro è un'occasione speciale perché c'è questa triplice alleanza di Lecco, Como e Monza che hanno permesso ai propri associati di partecipare ad un evento importante, più che altro ad un percorso, perché con il relatore di questa mattina ci sono una serie di appuntamenti, tutti conseguenziali, legati alla piramide della vendita. Quindi un'altra mattinata molto interessante, proposta dai collegi di FIAIP-Lombardia, il nostro cavallo di battaglia è la formazione e mai come con il Professor Tibi si riesce a sviluppare veramente ed avere buoni risultati. Quindi lascio la parola a Roberto. Beh, tanto grazie, grazie sempre per l'invito, per la stima e la fiducia. Probabilmente la Lombardia è la regione nella quale, anzi sicuramente, ho lavorato di più in questi ultimi tre anni di collaborazione con FIAIP, abbiamo fatto veramente tantissimi corsi e onore al merito a questi tre collegi che si sono messi insieme e che hanno voluto fare tutto il percorso in modo scadenzato, in modo tale da avere un piccolo intervallo tra l'intervento e l'altro, avere la possibilità di digerire gli argomenti piano piano e poterli mettere in pratica. Quindi grazie ancora. In Via Raimondi 1 a Como, proprio nel centro storico della città murata Comasca, si è appena conclusa la giornata di formazione che FIAIP Como ha voluto organizzare con FIAIP Lecco e FIAIP Monza Brianza e siamo col Presidente, Benny Recchia, il Presidente del Collegio Provinciale FIAIP Como. Com'è andata? Buongiorno a tutti, è stata una giornata veramente preziosa con il nostro formatore Tibi, Siamo alla quarta puntata di questo modulo, ci sarà la quinta, ma oggi è stata veramente preziosa, mi ripeto, anche per l'affluenza che c'è stata per quanto riguarda i tre collegi di questa Union. Niente, devo dire che è molto ma molto interessante. Come sempre i corsi FIAIP portano all'associato molta cultura e interesse. Grazie, grazie davvero, soprattutto in bocca al lupo per le prossime programmazioni. Per quanto riguarda i corsi di formazione che sia a Como, in modo autonomo, sia a Como con Lecco e Monza Brianza e poi anche a Sondro, piuttosto che Varese, intendono fare anche in l'ottica 2025. Certo, certo. Noi daremo le date nuove, c'è l'ultimo modulo che faremo all'Ecco su questa formazione che stiamo facendo in concomitanza dei tre collegi, ma ci saranno altri corsi programmati sia per quanto riguarda ognuno il suo collegio, per quanto riguarda Como, Lecco, Monza, Varese e quant'altro, e tutte le nostre province. Grazie.